qualcosa però è andato storto. Letizia ha rischiato di morire, lei nel prelievo degli ovuli ha avuto un'emorragia interna, l'ospedale non se ne accorse. Sono stato io a chiedere, fatele un'ecografia. Era bianca. Mi sento male solo a raccontarlo. Poi si è scoperto che aveva solo mezz'ora di vita. Ho chiamato un'ambulanza che l'ha portata in un ospedale privato dove è stata operata. Federico Fashion Style si asciuga gli occhi. Tutto si è risolto nel migliore dei modi. Lei ha avuto una forza incredibile di farsi impiantare di nuovo gli ovuli da cui è nata nostra figlia, rivela ancora. C'è qualcosa che però gli dispiace moltissimo ci rimango male quando mettono in dubbio la famiglia, mia figlia, tante volte sono stato giudicato in maniera pesante. Mi ha fatto male quando hanno detto che ho fatto l'inseminazione artificiale e pensare che Sofì è uguale, identica a me. Lì vedi la cattiveria delle persone. Vestirsi di paillette non vuol dire avere un'altra identità sessuale. Letizia non è compita dalle tante malignità. Stiamo insieme da 15 anni e conosce come sono fatto. Ho fregato anche le sue giacche dall'armadio. E' chiaro che più sono esposto, più arrivano cattiverie che colpiscono il personale e quello la fa star male. Su etero-omosessualità è abituata. Insieme sono felici.